Eros Ramazzotti torna a Mykonos, con una nuova donna misteriosa a seguito. Si tratta della nuova fidanzata o anche quest'estate si parlerà di un'amicizia molto intima? Di seguito le foto bollenti e tutti i dettagli. E anche quest'estate Eros Ramazzotti è stato beccato in vacanza in Grecia con una nuova presunta fidanzata, scopriamo di chi si tratta e le foto pubblicate sui giornali. Leggi anche, Anna Falchi e Walter Rodinò, chi è il nuovo compagno? Età, lavoro, foto Eros Ramazzotti a Mykonos, con la nuova fidanzata? Eros Ramazzotti torna a Mykonos in compagnia di una donna misteriosa. La scorsa estate il cantante romano era stato paparazzato in compagnia di una ragazza molto giovane, Marta De Logu. Immediatamente il gossip parlò di nuova fiamma ma Eros smentì, dicendo che si trattava soltanto di un'amica. Quest'estate la storia si ripete. Nella stessa villa greca, Ramazzotti è stato paparazzato in dolce compagnia, si tratterà anche in questo caso di un'amica o c'è qualcosa di più? Eros Ramazzotti fidanzata attuale, ecco le foto in magazine chi ha fatto molto attenzione a non etichettare la donna in compagnia di Eros Ramazzotti come sua nuova fidanzata, ma ha sottolineato la forte intesa tra i due. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha raccontato che Eros ha trascorso dei giorni tra carezze, abbracci e gesti d'affetto. La coppia, inoltre, ha condiviso la vacanza in solitaria. Si tratta di una fuga d'amore o di una intima vacanza tra amici? Ecco le foto pubblicate, foto di chi e voi cosa ne pensate? Vi sembra ci sia del tenero tra i due? Non ci resta che attendere la conferma o la puntuale smentita del diretto interessato. Restate aggiornati anche con la pagina Instagram di Per Scoprire in anteprima tutte le news in merito. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.